Musica Secondo appuntamento con Gourmet Food Festival, che conferma Torino come una delle capitali del gusto. La manifestazione, svolta all'ingotto fiere, è rivolta agli operatori del settore, produttori e grande pubblico di tutte le età. Tre giorni alla riscoperta dei tesori dell'enogastronomia, le ricette con i loro segreti e il rapporto tra cibo e territorio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il tutto per un incontro unico, dedicato agli appassionati e alla ricerca di un gusto sempre più innovativo e salutare.